bene a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul mio canale con un nuovo video allora ragazzi oggi un nuovo video un po diverso dal solito oggi non parleremo di decoupage o di fai da te oggi ho voluto portarvi un gameplay allora più che in gameplay è The Sims 4 tanto l'avreste già letto dal titolo oggi vi porto questo video un po' diverso perché purtroppo per fare sempre fai da te decoupage bisogna avere molti oggetti e bisogna avere anche tanti soldi per comprare gli oggetti e per fare cose un po' diverse sì è vero ci sono tanti ragazzi e tante ragazze che prendono le cose già da casa ma io purtroppo per dire per le buti di place così magari non le riutilizzo ma le butto via oggi vi porto questo video per cambiare un po' io spero che vi possa piacere se è così lasciate tanti mi piace e niente vi lascio il video ciao allora eccoci qua siamo su The Sims 4 sulla schermata principale e via facciamo un nuovo personaggio per iniziare la serie allora vediamo un po' chi ci riesce a finnaia scudo ma noi la modifichiamo e vogliamo personalizzarla come piace a noi più che altro a me allora qua ci sono le varie facce oh mio dio oh mio dio che naso patata che ha questa ecco facciamo la cinese non sto scherzando allora una faccia molto decente ecco direi questa qui è molto carina ci può stare allora abbiamo anche le soffracciglia di certo non queste no no assolutamente queste qua sono carine ma sei un po' chiamato ma sei un po' troppo allungato diciamo ok allora capelli serena no se no così però si trova un po'hai ciotta proviamo questa o questo questa allora i capelli facciamoli un po' diverso ecco io li farei blu però secondo me non sta male non è bruttina no dai bionda o se no la facciamo rossa o tipo così però taglio i capelli proprio no qui sta arrivando un bellissimo temporale allora dove ero rimasta ancora? ecco facciamo con la trecina ole così non è male però dobbiamo cambiargli le sofferciglie è tornata la linea allora ragazzi dove eravamo rimati qua allora io ho messo questi capelli qua perché mi sembrano molto carini avevo provato anche a cambiare un outfit così velocemente ma direi che prima dobbiamo passare al corso non è male voglio dire tutto denudati eccolo qua e ora si vediamo la tete floccia così così poco magra così proprio ecco fatto deve avere tante tete molto grosse benissimo allora possiamo iniziare a vestire avevo provato questo però non mi piace moltissimo questo già si può stare mi piace adesso passiamo al trucco perché no qua perché questi occhioni neri qua tu non mi piaci o meno così così ah dovevo vedere anche un attimo gli occhi non mi piace tantissimo eh no i primi mi piacevano tanto ed erano questi ok allora andiamo avanti allora si può stare sì e l'ailar così o così no così così mi piace ora rossetto troppo rosso notiamo io un qualcosa di un po' più delicato ecco questo qua ci sta perché fa ci sta perché sta con la giacca giusto ci sta con la giacca 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 perciò cambiamoci perciò cambiamoli allora da testa come ti facciamo così no direi così no mi piace ci sta con la giacca ci sta con i capelli ricci carina ma così ecco così mi piace di più ok abbiamo creato il nostro personaggio perciò andiamo qua e mettiamo i fratti allora come la facciamo il nostro personaggio allora io direi che la facciamo amante della famiglia progenie di successo progenie di successo oppure grande famiglia felice grande famiglia felice poi la facciamo sicura deve avere sempre ragione lei come tutte le donne ordinata e poi la facciamo buon gustaio è la donna perfetta tutti la vorrebbero allora ciao mi chiamo allora un nome che a me piace moltissimo charlotte e di cognome la chiamiamo charlotte snow andiamo avanti siii andiamo grazie al nostro personaggio yeee allora facciamo vedere ancora la casa e poi stoppiamo ma in quanto cazzo sta piovendo meno male che non ho la webcam che riprende a parte che fa tutto la webcam quindi in questo computer non è vero non so non fa i script è bellissima allora dove vogliamo vivere? qui 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 qua windelborn se voi non lo sapete è windelborn bellissima bellissima allora prendiamo una casetta piccola bello l'ho già occupato possiamo andare a vivere qua o qua o anche qua prendiamo questa? si ammobiliata ma si andiamo a vedere come è la nostra casetta non ti bloccare non ti bloccare è bellissima ho pure due letti qua posso farla diventare per dire il mio studio e questa è la casetta allora ragazzi mentre tu stai qua a guardare il telefono e pensi ai lama bellissima io direi di stoppare qui la puntata no? cioè più che altro il primo episodio se il serie vi piace continuiamo con una seconda puntata e andiamo avanti e se volete modifichiamo un po' la casa mettiamo qualcosina in più anche se non abbiamo tanti soldi però modifichiamo un po' vediamo come possiamo fare e niente vi parlo dall'altra parte ciao eccomi qua sono tornata allora se siete arrivati a questo punto del video allora lasciate un bel sole nei commenti perché fuori sta diluviando letteralmente e così magari se voi mi lasciate un sole magari domani ci sarà una bella giornata vabbè detto ciò se il video vi è piaciuto come ho detto precedentemente lasciate un mi piace un commento e se vi va continuo con il prossimo episodio di The Sims ciao ciao